Un pericolo concreto ed incombente di esplosione a causa dei gas prodotti dalla decomposizione dei rifiuti stoccati. Dopo la chiusura imposta mesi fa dalla regione Puglia per via dei suoi alti livelli di inquinamento, è stata sequestrata questa mattina la discarica di Trani, di proprietà comunale, gestita dall'Amiuspa al servizio dei comuni del bacino auto Bari 1, ad eseguire il provvedimento che di tipo probatorio i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Bari ed i colleghi della compagnia di Trani su disposizione della procura locale. Alla base dell'ordinanza, come detto, la concreta possibilità di un'esplosione della struttura per via della mancata realizzazione di un impianto di captazione del biogas prodotto dai rifiuti in decomposizione. Il biogas avrebbe esercitato una forte pressione sotterranea sulle pareti della discarica, provocando la fuoriuscita di migliaia di liti di percolato e determinando un ulteriore grave inquinamento dell'ambiente. Dati allarmanti sono emersi inoltre dai controlli e dalle analisi di laboratorio che hanno evidenziato la contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque di falda, a causa della presenza di metalli pesanti come cromo, nickel, arsenico e ferro. Sono 16 le persone indagate tra rappresentanti istituzionali, dipendenti pubblici e dirigenti della regione. Tra di loro figurerebbero i nomi del sindaco dimisionario Luigi Riservato, dell'ex sindaco Giuseppe Tarantini, l'ex vice sindaco e assessore all'ambiente Giuseppe De Simone e gli ex presidenti dell'AMIU Franco Sotero e Antonello Ruggero. Rispondono a vario titolo di disastro ambientale aggravato, omissione di atti d'ufficio, gestione continuata di rifiuti in assenza di autorizzazione e di emissioni non autorizzate nell'atmosfera. Già dagli inizi di settembre tutti i rifiuti conferiti a Trani sono stati regolarmente smistati in diversi impianti pugliesi, in particolare nelle aree del Tarantino. Una decisione resa necessaria dal blocco di tutte le attività della discarica deciso dalla regione Puglia, dopo che i controlli seguiti su due pozzi per la raccolta del percolato avevano fatto registrare livelli di inquinamento allarmanti.